Ok, allora in questo paio di settimane, anche qua, esploreremo quest'altro argomento che iniziamo adesso, liste e tabelle, in realtà avremo ancora un po' di cose da dire a proposito delle funzioni che abbiamo visto la settimana scorsa, però le infiliamo negli esempi al momento opportuno, quindi ci sono ancora, come sempre, alcuni approfondimenti da fare anche sugli argomenti precedenti, ma nel frattempo mi sembra più opportuno andare avanti, così riusciamo anche a fare degli esercizi un pochino più articolati, un pochino più interessanti. Allora questo è uno dei punti di svolta di questo corso, cioè da adesso in avanti le cose cominciano a diventare un pochino, un pochino o un tantino, dipende da ciascuno di voi, più complicate. Ok? E proviamo a vedere perché, ma perché cominciamo effettivamente ad avere la capacità di gestire dei dati che non siano semplicemente più il numeretto o la stringa di testo, ma cominciamo, diciamo così, da questa mattina a acquisire la capacità di gestire dei dati più numerosi e più complessi, più articolati. Ci arriviamo per gradi, ovviamente comincieremo con le liste, liste bidimensionali, poi tra tre settimane parleremo dei file, poi parleremo dei dizionari, dei modi, diciamo così, più evoluti di strutturare le informazioni e quindi se l'informazione è strutturata in modo più complesso, chiaramente anche la modalità di gestirla sarà più complessa. Di base che cos'è una lista in Python? In Python una lista è una struttura dati che contiene una sequenza di altri valori, una sequenza di valori, in un numero variabile, posso avere una lista di due elementi, una lista di cinque elementi, una lista di 400.000 elementi, questi elementi a loro volta sono valori qualsiasi del linguaggio Python e quindi possono essere numeri interi, possono essere numeri reali, possono essere stringhe, possono essere anche altre liste, non c'è nulla di strano. In altri linguaggi di programmazione questo concetto c'è ovviamente in tutti i linguaggi di programmazione implementato, supportato in modo magari diverso, magari avete già sentito parlare di vettori, di array o di sequenze, ecco in Python le chiamano liste e il comportamento di una lista in Python va al di là di quello che è un array in C ad esempio, dove ho dei vincoli molto molto stretti sulla dimensione iniziale, sul numero di elementi che può contenere, eccetera eccetera. Una lista in Python come tutta la storia del linguaggio è molto dinamica, nel senso che una lista può, come vedremo, contenere cinque elementi, poi ne possono aggiungere altri due o tre, poi ne possono togliere uno, togliere due e quindi il numero di elementi può crescere e diminuire col tempo man mano che il programma evolve. Così come il tipo dei dati che sono memorizzati in una lista anche questo può cambiare nel tempo. Qual è la caratteristica fondamentale di una lista, oltre al fatto di contenere dei dati, è che ciascuno di questi dati è identificato attraverso la sua posizione all'interno della lista stessa. Alla fine è quello che in corso modo sappiamo già con le stringhe. Una stringhe fatta di tanti caratteri e ogni carattere ha un suo indice, 0, 1, 2, 3 fino alla lunghezza meno 1. Ecco, la stessa cosa succede con le liste, solo che il dato contenuto non è più un singolo carattere ma può essere una qualunque cosa. Vediamo in pratica come si fa. Una lista, la definisco dal punto di vista sintattico usando delle parentesi quadre. E quindi qua ad esempio vediamo questa istruzione che è rappresentata qua come esempio, creo una variabile che chiamo values alla quale assegno un valore di tipo lista elencando tra parentesi quadre e separati da virgola i valori degli elementi che voglio che finiscano in quella lista. Quindi quella lista da quel momento in avanti conterrà non un valore ma una serie di valori. Serie di valori che sono ciascuno accessibili con la stessa sintassi che usavamo per accedere a un singolo carattere di una stringa quindi con le parentesi quadre. Qui se vogliamo visualizzarcelo possiamo provare con il nostro python tutor, proviamo che ne so la lista dei voti, costruisco una lista che contiene 28, 30, 27, 25. Questo è il modello mentale che abbiamo per presentare una lista. Una lista è quel rettangolino giallo. Un rettangolino giallo contiene quattro posizioni, quattro elementi, identificati ciascuno da un proprio indice 0, 1, 2, 3. Ormai siamo abituati che gli indici si contano a partire da zero. Quindi una lista di quattro elementi avrà gli elementi identificati dalle posizioni 0, 1, 2, 3, quindi 4 meno 1, fino alla lunghezza meno 1. Ciascuna di queste posizioni contiene un valore. Ma il valore qui l'abbiamo disegnato, l'abbiamo. Il python tutor l'ha disegnato fuori. Il valore 28 è il valore che trovo alla posizione 0. Un po' come quando definisco una variabile A uguale a 28, la variabile è il nome ma il suo valore sta da un'altra parte. Qui in questo caso questo valore, lui addirittura si è accorto che era uguale e quindi l'ha condiviso perché è lo stesso intero. Quindi tornando alla nostra lista, mettiamo un commento qua così non ci crea confusione. Noi abbiamo voti che è il nome di una variabile che in questo momento fa riferimento a una lista. Questa lista in questo momento contiene quattro elementi. Questi quattro elementi sono, li vado a vedere, quattro valori di tipo intero. Quindi la sintassi qua con le parentesi quadre mi crea una lista elencando gli elementi che contiene. Crea la parte destra di questa figura. Poi il segno di uguale mi permette semplicemente di andare a memorizzare questa struttura dati che ho creato in una variabile, per ricordarmi il riferimento a questa struttura dati qua. Poi come faccio ad accedere ai singoli elementi di questa lista? Vabbè ovviamente il primo elemento sarà voti di 0. Il secondo elemento sarà voti di 1. Così come in una stringa estraevo il singolo carattere qua in una lista posso andare a estrarre il singolo valore usando le parentesi quadre dentro il quale ovviamente metto il valore dell'indice. L'ultimo sarà voti di 3 oppure voti di meno 1 ormai le regole di indicizzazione sono le stesse che già conoscevamo per le stringhe. Quindi in questo caso ci accorgiamo anche che Python è abbastanza furbo per cui visto che esiste già un valore 28 che era memorizzato dentro la stringa quando scrivo primo uguale voti di 0 cioè primo uguale a 28 non crea un altro 28 ma riusa quello che ha già. Questo fatto di riusare per numeri interi non ci dà fastidio ma quando faremo liste di liste o cose simili più tardi oggi non ci preoccuperà ma perlomeno dovremo farci attenzione. Quindi questa è la struttura dati base. Cosa posso fare una volta che ho creato una lista di elementi? Beh la cosa più semplice che posso fare è estrarre un elemento di quelli che ho memorizzato lì dentro. Quindi qui l'ho chiamato voti come esempio per immaginare che sia ad esempio una sequenza dei voti che abbiamo preso o prenderete nel nostro libretto. Quindi non ho un dato solo finora avevamo la possibilità di memorizzare una variabile quindi prendo un voto prendo 28 quando prendo il secondo voto se una variabile è sola il primo viene perso quando memorizo il secondo. Invece in questo caso abbiamo la possibilità di aggiungere nuovi voti senza perdere quelli precedenti quindi avere una quantità variabile crescente di valori che poi possiamo andare a estrarre conoscendole la posizione l'indice. Oppure e questa è una novità perché con le stringhe non si poteva fare posso anche andare a modificare il contenuto della stringa della sua lista. Quindi immaginate che noi quel terzo esame che abbiamo dato a questo 27 poi andiamo a piangere lamentarci col professore far vedere la foto del gatto del fratellino ah no ma guardi in realtà lo sapevo ho risposto male vabbè e allora il professore alla fine per mandarvi via vi alza il voto quindi il voto di 2 a questo punto anziché il 27 sarà 29 quindi una lista che io ho definito con certi valori può essere sempre comunque aggiornata andando a sostituire ai valori precedenti un valore nuovo ad esempio questo 29 oppure vabbè anziché mettere 29 lui dice guarda io ti aumento di 2 punti ovviamente fa sempre 29 però questa istruzione voti di 2 uguale voti di 2 più 2 a parte l'accesso di 2 che ci sono su questa riga si legge come l'abbiamo sempre letta parto da vedere cosa c'è a destra dell'uguale a destra dell'uguale c'è una somma una somma di che cosa? di un valore che è un'espressione in cui indicizzo estraggo un valore da una lista più una costante 2 allora vado a vedere quanto vale voti di 2 e in questo punto torno indietro con l'esecuzione voti di 2 valeva 27 quindi qua voti è riferimento alla lista voti di 2 parentesi quadra 2 è il riferimento al valore che è contenuto nel terzo elemento di questa lista quindi python fa proprio così va avanti un passo alla volta che cos'è voti? voti è questo rettangolo qua voti di 2 voti di 2 è questo intero 27 ok non c'è altro da fare perché sono arrivato a un valore somma con 2 fa 29 questo 29 me lo costruisco me lo scrivo qua sotto dove lo metto? e lo metto guarda caso di nuovo dentro voti di 2 quindi questa sintassi di indicizzazione di una cella la posso usare sia a destra dell'uguale dentro un'espressione per usare il valore di quel elemento sia a sinistra dell'uguale per andare a sostituire un elemento esistente con un valore nuovo quindi in questo caso vado a dimenticare il valore precedente e lo sostituisco con il valore nuovo vado a modificare il valore a cui faccio riferimento dalla cella numero 2 ma se io scrivessi quiz voto di 0 uguale 18 secondo voi ok voto di 0 adesso vale 28 sono fermo qua non l'ho ancora eseguita questa istituzione allora se scrivo voto di 0 uguale a 18 tutti sappiamo che alla casa da 0 ci sarà una frecciolina che non punterà più a 28 ma punterà a 18 facile la variabile primo che adesso punta a quel 28 lì che stiamo modificando cosa farà? anche la variabile primo verrà modificata a 18 oppure la variabile primo punta a 28 così se ne sta chi dice che primo valerà 18? nessuno meno male perché ciò che abbiamo fatto non è stato di modificare il 28 trasformarlo in un 18 non si può modificare un numero lui è un 28 ciò che abbiamo fatto è stato modificare il contenuto della prima cella di quella lista del primo elemento di quella lista facendoli assumere puntare al valore 18 in questo caso ma il fatto che in precedenza io avessi estratto quel valore a cui puntavo la cella 0 in precedenza non crea un legame duraturo a questo punto primo punta al 28 il 28 è rimasto vedete che la differenza del 27 che c'era qua che adesso è scomparso dalla figura quando abbiamo incrementato il voto è scomparso dalla figura perché non serve più non c'è più nessuna variabile che che punta a questo 27 mentre invece il 28 è rimasto perché è ancora riferito dalla variabile primo che avevamo estratto da voti di 0 ok? qui noi possiamo prendere i valori leggerli memorizzarli da un'altra parte modificarli eccetera eccetera attenzione che questo non è perché devo inventarmi una lista uno avrebbe potuto dire ma sì ma mi stai raccontando cose che non servono perché io avrei potuto scrivere tante variabili voto 1 uguale cosa ho scritto 28 voto 2 uguale 30 voto 3 uguale 27 voto 4 uguale 25 perché mi hai fatto fare tutta sta roba che differenza c'è tra scrivere voto 2 oppure voti di 2 se io so che avrò sempre solo comunque 4 voti la differenza quasi non c'è ma se il numero di voti è ignoto non so quanti sono l'utente arriva e inserisce i suoi voti quanti ne ha fatti quanti ne ha dati esami ne ha dati 3 ne ha dati 8 ne ha dati 12 come faccio a sapere quante variabili per disporre non lo so e poi se a un certo punto devo aggiungere uno nuovo allora usare una lista mi permette di gestire più valori in modo dinamico dicevamo prima quindi aggiungendoli anche man mano adesso vediamo come si fa con una sola variabile quindi variabile non una sola era voti attraverso questa variabile raggiungo tanti valori diversi mentre invece con variabili semplici ogni variabile ha un valore la seconda variabile ha un secondo valore e così via oltre al fatto che se mi dicono senti stampami i quattro stampami i voti che hai preso diventa molto più facile se ce l'ho in una lista stampare un piccolo ciclo for che va a prendere i singoli elementi piuttosto che non fare quattro printi diverse col primo secondo terzo quarto quindi per stampare questi valori cosa potrei fare semplicemente dico faccio come farai per una stringa cosa ho scritto qua voglio stampare i voti che ho ottenuto quindi in realtà l'output è questo qua che vedete qui cioè il contenuto della lista ah si scusate non era il 28 ma il 18 perché l'ho modificato chiaramente stamperò dentro un ciclo voti di facendo in modo che la i vari tra 0 e 3 voti di 0 voti di 1 voti di 2 voti di 3 e in un unico ciclo lo ripeto ho generato il range usando l'en di voti l'en lo usevamo per le stringhe ci diceva quanti caratteri componevano la stringa lo possiamo anche usare per liste ci dirà quanti elementi sono contenuti nella stringa esattamente uguali ok questa cosa qua non la potrei fare se avessi variabili spezzate sembra una banalità ma io non potrò mai scrivere print e che ne so voto 1 voto voto i non posso metterlo come pedice questo i o dire beh questo qua voglio che a volte sia voto 1 a volte sia voto 2 la variabile voto i non esiste ok quindi se voglio generalizzare qualche cosa sono obbligato a costruire una struttura dati con un nome una variabile e tante posizioni tanti indici è facile creare una lista come abbiamo visto qua no semplicemente elencando gli elementi questa lista ad esempio è già un pochino più variabile perché ci sono alcuni numeri interi e alcuni numeri reali questo non dà nessun fastidio se noi qua avessimo i mezzi punti magari questo qua non mi ha dato due punti ma mi ha dato un punto e mezzo solo in più e allora io avrò 28 e mezzo come voto dell'esame 2 fatemi cancellare questa vergogna qui come voto dell'esame 2 che come vedete mentre gli altri elementi sono tutti int 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 questo qua è float ma alla lista non dà nessun fastidio la lista contiene sempre quattro elementi e ogni elemento avrà il suo tipo quindi vedremo molte similarità tra le liste e le stringhe le differenze principali sono due una evidente anzi le abbiamo già viste tutte e due adesso una è che posso contenere dei valori anche diversi dei caratteri ovvio due è che una lista può essere modificata quindi quando già la prima settimana vi dicevo questa parola strana una lista una stringa è immutabile era per prepararmi a questo momento in cui vi sto dicendo che una lista invece è mutabile l'abbiamo visto una lista conteneva certi valori e poi abbiamo modificato i valori contenuti nella lista con le stringhe non si poteva fare se io dovevo prendere una lettera e far diventare maiuscola dovevo fare una stringa diversa nella quale costruivo il nuovo valore ma non potevo modificare la stringa esistente e questo ci creerà qualche problema ma anche qualche opportunità di lavorare allora qui ci sono alcuni esempi molto semplici di stringhe che contengono interi reali liste che contengono numeri interi numeri reali o liste che contengono stringhe la lista la terza lista che è indicata qua contiene quattro stringhe che corrisponde ai nomi dei mesi i mesi più corti di 31 giorni 30 giorni a novembre con aprile giugno e settembre ci sono tutti e poi c'è febbraio quindi l'elemento della lista sarà a sua volta una stringa stringa qua è visualizzato in questo modo ma la visualizzazione è solamente un'opzione che possiamo vedere qua per risparmiare spazio cioè per default se andate su Python Tutor una lista ve la fa vedere così con gli elementi dentro le celle va bene perché è compatta però ricordiamoci per capire cosa succede che il vero la vera posizione degli elementi dei valori è messa qua in cui vediamo effettivamente che questo 30 è condiviso mentre invece se usassi l'impostazione normale anche qua il 30 me lo mette qui ma non c'è nulla che mi fa capire che questo 30 è in realtà lo stesso soggetto è più compatto una volta che ho capito il meccanismo generale tolgo un po' di frecce che creano disordine se voglio vederlo però all'inizio preferisco sempre ragionare esplicitamente la quarta la quarta lista di questa slide è una lista mista che contiene due stringhe e due interi cioè lui ha fatto una lista che conteneva le sue cose fortunate quindi la stella è il numero 13 il numero 17 è il quadrifoglio qui il quadrifoglio ovviamente ha usato un carattere unicode con con le emoji del quadrifoglio che è comunque una stringa come tutte le altre ok normalmente a python non fa nessuna differenza che questa stringa sia fatta un po' da interi e un po' da stringhe però quando poi dovremo lavorarci sopra può essere comodo sapere che una lista contenga tutti i numeri o contenga tutte le stringhe cioè suggerimento per noi evitiamo nonostante il linguaggio dei supporti evitiamo di mescolare tipi diversi di valori all'interno della stessa lista un po' come all'inizio della prima lezione abbiamo detto guarda una variabile che i può valere 3 e poi subito dopo i può valere ciao però abbiamo detto sì lo puoi fare ma noi non lo facciamo perché altrimenti leggendo il codice a un certo punto non sai più che cosa contiene quella variabile quindi nonostante non ci sia nessun problema avere liste con tipi di dati diversi con tipi di valori diversi di solito non ce n'è quasi mai la necessità ok l'indicizzazione sulle liste funziona come l'indicizzazione sulle stringhe per cui se io cerco di accedere ad un elemento che non esiste mi dà un errore quindi se in questo caso provassi a stampare un ipotetico voti di 4 mi darà l'eccezione mi darà un'eccezione di list index out of range ovviamente qui usa la parola list nel caso delle stringhe non mi ricordo più come si chiamava forse string ma in ogni caso si chiamava sempre index out of range l'intervallo dell'indice non è quello corretto valgono anche qua indici negativi come prima nulla di particolare prima abbiamo visto come stampare una lista ma in realtà in python è possibile stampare direttamente la lista con un'istruzione sola cioè la funzione print capisce cosa è una lista e se voglio me la stampa con un'unica istruzione quindi io qua ho fatto questo ciclofor ma avrei potuto più semplicemente semplicemente scrivere print vuoti cosa mi fa print vuoti mi stampa la lista in questo formato con le parentesi quadre e le virgole un po' come lo stesso formato in cui l'ho costruita all'inizio può piacere può non piacere se io dovessi scrivere questi vuoti incolonnati senza le virgole eccetera allora non va bene me lo devo costruire io stampo un po' per volta se voglio incolonna allora ci metterò di non andare a capo ci metto uno spazio di separazione lo formato come voglio eccetera come abbiamo imparato un po' a fare se invece ho fretta voglio solo stampare un valore perché magari non è diciamo l'output che deve essere esteticamente corretto ma è una print di lavoro per controllare che il programma vada avanti correttamente posso evitare di fare un ciclo solamente per stampare un valore e stampo direttamente il nome della lista se stampo una lista non ho nessun controllo su come viene stampata viene stampata così con le parentesi quadre e le virgole se non mi piace non uso questa print oppure ovviamente posso stampare il singolo elemento il singolo elemento altro non è che un singolo valore e quindi verrà stampato come un numero intero come un numero reale individuale tutte le volte che applico le parentesi quadre a una lista sto ottenendo sostraendo il singolo valore e quindi sappiamo già come fare cosa ci posso fare con un singolo valore la funzione length l'abbiamo già vista quindi qui andiamo un po' veloce perché in realtà stiamo ripassando cose che in un contesto diverso abbiamo già visto è il numero di elementi qui bisogna fare attenzione perché le parentesi quadre in realtà le stiamo usando in tre modi diversi un modo per estrarre un valore così values di 4 mi dà il quinto elemento della lista che si chiama values e quindi in questo caso le parentesi quadre sono un operatore di indicizzazione mi dicono qual è l'indice a cui devo andare a prendere un elemento è diverso invece il ruolo che hanno quando creo la lista cioè nella prima istruzione qua anche qua uso le parentesi quadre ma con un significato diverso qui in questo caso le sto usando per creare una nuova lista da zero quindi questo è un operatore di creazione definizione di una costante una lista di una inizializzazione di una nuova lista quindi mentre sopra dentro le parentesi quadre questo 4 è un indice una posizione qua questo 4 è un valore è il valore 4 che viene messo in una lista alla posizione 0 perché è il primo elemento in questo caso è anche l'unico ok? quindi non confondiamoci non è vero che dentro le parentesi quadre ci sta sempre l'indice normalmente quando ho indicizzato una posizione sì ma nel momento in cui invece sto creando una lista nuova le parentesi quadre assumono un significato diverso e vogliono l'elenco dei valori quando c'è un elenco è facile da è facile non confondersi perché proprio sintaticamente è una cosa diversa quando ce n'è uno solo potrebbe creare una piccola confusione e come posso ciclare sugli elementi di una lista quindi noi cominciamo a vedere un po' di operazioni che posso fare su questo nuovo tipo di dato alcune molte operazioni in realtà si riflettono sui singoli elementi stampare una lista vuol dire stampare i singoli elementi della lista calcolare il massimo valore presente in una lista significa calcolare il più grande tra i numeri che sono in esso contenuti quindi molto spesso quando abbiamo una lista dobbiamo esaminare i suoi elementi uno ad uno e quindi di fatto impostare un ciclo che vada ad esplorare uno ad uno gli elementi poi per fortuna non sempre dobbiamo fare così vedremo delle funzioni di libreria che in realtà lavorano già sulla lista complessiva quindi non ci obbliga ogni volta a fare un ciclo però è molto molto frequente quando ho una lista di elementi doverli comunque analizzare uno a uno attraverso ovviamente un ciclo allora il modo più semplice è quello che abbiamo fatto prima nell'esempio per prendere uno ad uno gli elementi in una lista crea un ciclo con un indice che varia tra 0 e la lunghezza meno 1 della lista con un'istruzione di questo genere range length della lista a questo punto dentro il corpo di questo ciclo ho la variabile i che userò come indice appunto per andare a indicizzare ogni singola posizione quindi prendo la posizione di indice 0 quella di indice 1 di indice 2 e così via ok questo è il modo più semplice si può anche fare con il costrutto for in come già facevamo sulle stringhe una lista è un contenitore così come lo è una stringa e quindi posso usare la sintassi in all'interno del ciclo for che va ad estrarre uno a uno i singoli valori quindi in questo caso la variabile di controllo di questo ciclo for in in lista non in range la variabile di controllo elemento non è più l'indice come era prima i ma è già il valore quindi ad ogni iterazione questo element assumerà il valore la prima volta 28 anzi non 28 cos'era 18 la seconda volta 30 la terza volta 28,5 e così via quindi io ho questo elenco di voti visto che a me in questo caso qui interessa solamente stampare i voti non me ne faccio nulla dell'indice i vedete un po' il giro che sto facendo prendo una lista ne strago la lunghezza da questa lunghezza calcolo un range di numeri interi poi faccio viaggiare la variabile di controllo i su questi numeri interi ma per poi alla fine usare questo numero intero per prendere il singolo elemento della lista no? si può fare ma si poteva anche fare più semplicemente for v in voti print v magari vado a capo tra uno e l'altro se non capisco più nulla l'effetto è lo stesso in entrambi i casi ho stampato i voti solo che nel primo caso il ciclo era controllato da i che spazzolava i valori degli indici 0 1 2 3 dentro il corpo del ciclo ho usato l'indice per estrarre il singolo valore ok? nel secondo caso come variabile di controllo ho usato questa v che itera direttamente sulla lista voti e quindi ad ogni iterazione di questo ciclo il valore di v assumerà uno dei a turno uno dei valori della lista in ordine quindi la prima iterazione v vale 18 la seconda iterazione v vale 30 la terza iterazione vale 28,5 e così via se mi serve solo se mi servono solo i valori è più comodo così chiaramente non devo gestirmi un indice il cui valore il valore di se andate a vedere viene usato solamente per andare a recuperare il singolo elemento non mi serve ad altro allora in questo caso ne posso fare a meno se invece mi servisse anche l'indice quindi volessi stampare il primo voto era 18 il tuo secondo voto è e quindi mi serve non solamente il valore ma anche l'indice conviene usare la prima versione questo è un ragionamento che avevamo già fatto sulle stringhe oppure così come abbiamo già fatto sulle stringhe possiamo usare la funzione numerate che mi dà insieme indici e valori ok come funziona questa da un lato abbiamo in range che mi spazzola dei valori interi dei valori degli indici dall'altro abbiamo in lista che mi spazzola i valori effettivi della lista ma se ne voglio entrambi se ne voglio entrambi potrei usare la funzione appunto enumerate vediamo che cos'è questo enumerate di voti adesso questa qui quando se cerco di stampare questo enumerate mi stampa un messaggio un po' strano che mi dice guarda questo qua in realtà non ha un valore ma è un oggetto che ti serve per stituire dei valori per poterlo vedere ma poi capiamo tra mezz'oretta perché lo converto in una lista allora se io prendo una lista come una lista a voti e applico la funzione enumerate sulla lista così come facendo sulla stringa uguale stessa cosa quello che ottengo a sua volta è una lista e questa volta lo riconosco perché la so ci sono apparenti di quadre vuol dire che è una lista fatta di quattro elementi vedi che sono separati da virgole parentesi quadre roba separata da virgole i singoli elementi di questa lista a loro volta sono delle coppie di valori e questi valori sono costruiti prendendo come primo elemento della coppia l'indice 0 1 2 3 quindi gli stessi valori che avrei in un for range il secondo elemento della lista 18 30 28 5 25 sono i valori effettivi della lista gli stessi che avrei in questo ciclo di for quindi questo vuol dire che se a me serve iterare dentro l'iterazione e conoscere sia l'indice che il valore posso semplicemente iterare sulle coppie di valori i virgola v in enumerate di voti quindi potrò stampare che il voto i più 1 vale v ad esempio quindi voto 1 vale 18 voto 1 vale 30 voto 3 vale 28 e 5 e così via in questo ciclo ho avuto la possibilità di usare comodamente sia l'indice che il valore ok sono tre forme diverse di ottenere lo stesso risultato ok adesso che operazioni ci posso fare tra liste allora immaginiamo di avere una lista qualunque e di riflettere sull'istruzione prima di provarla valios uguale scores lui tra certi punteggi 10 9 7 4 5 li hai salvati in una variabile che si chiama values poi scrivi values uguale scores quindi stai copiando la lista scores in una nuova lista values che stai creando è come fare a uguale a 7 e poi fare b uguale ad a dentro la ci ho messo un valore poi mi copio questo valore anche dentro b se è un valore numerico va bene non mi importa che sia lo stesso valore o una coppia o una replica nel caso di una lista invece mi importa immaginiamo ok fatemi cancellare quello di prima noi abbiamo i nostri voti ma questa volta abbiamo due persone diverse ok la persona ha il signor A e il signor B quindi i voti di A sono questi A e B studiano insieme e quindi anche i voti di B saranno uguali ai voti di A non ho detto che copiano allora che cosa è successo avendo scritto che i voti di B sono uguali ai voti di A che le due variabili stanno condividendo la stessa lista non ho creato una nuova lista voti di B che contenesse gli stessi voti dei voti di A no la lista è una sola adesso ha due nomi voti A e voti B quindi è chiaro che se io voglio sapere qual è stato il primo voto di A voti A di 0 e anche il primo voto di B voti B di 0 otterrò due volte 28 e qui me lo aspetto perché ho detto che hanno gli stessi voti il problema nasce nel momento in cui magari il prof si accorge che B ha copiato perché non è possibile che siano proprio uguali i voti no? allora ti senti no guarda ti ho beccato sono buono ti do comunque 18 però 28 non te lo meriti e allora il prof dice che voti B di 0 è uguale a 18 uguale non meno uguale a 18 quindi cosa succede? ovviamente il voto di B di 0 è stato modificato e è diventato 18 ma poiché la lista che conteneva il 18 è una sola anche voti di A è stato modificato se io rifacessi questa print qua sotto anziché dire senti A il suo 28 ce l'aveva e se lo tiene ma B purtroppo è stato declassato 18 vedrò invece che entrambi sono stati declassati a 18 allora questo è un problema o un'opportunità dipende entrambe le cose sono io che devo decidere il fatto di poter modificare una lista il contenuto di una lista perdono attraverso nomi diversi di variabili mi permette di dire senti io ho fatto questa lista tieni questo è il nome della variabile modifica aggiungila modifica fai il ciclo per azioni tu non potrai ovviamente modificare la mia variabile ma quella che ti sei fatto tu sì lo vedremo come passaggio di funzioni nel passaggio di funzioni funziona così io quando passo una lista a una funzione questa funzione riceve un sinonimo della lista di partenza e quindi la può modificare facendo attenzione ma se invece volessi davvero fare una copia cioè da quel momento in avanti voglio tenere separate le due liste come posso fare? posso usare dove è andato? mi fa vedere ad esempio utilizzare la funzione list la funzione list crea una nuova lista con gli stessi valori della lista attuale cioè se io voglio tenere far sì che i voti di B inizialmente siano uguali a quelli di A ma poi da quel momento in avanti sono indipendenti scrivo questa la commento e qua scriverò voti di B uguale una nuova lista costruita a partire dai voti di A voti di B uguale lì mi torno indietro con l'esecuzione subito prima delle print quindi io avevo i voti di A eseguo questa istruzione voti di B uguale a list voti di A la funzione list crea una nuova lista questa nuova lista verrà popolata inizialmente con gli stessi valori che c'erano nella lista A quindi vedete che condivide gli stessi valori ma la lista è diversa gli indici sono diversi le caselle sono diverse e a questo punto se io vado vabbè se stampo il primo elemento al momento sarà uguale proprio perché l'ho copiato uguale l'ho copiato non ho fatto un riferimento a una cosa che esiste già ne ho fatta una copia non del 28 ma della lista ma a questo punto se voglio modificare voti di B mettere 18 lo posso fare e verrà ovviamente rediretto solamente questa cella e non quella sopra è quello che abbiamo visto prima quando ho detto ma il primo voto se lo cambio nella lista cambia anche nella variabile voi tutti mi avete detto no è la stessa cosa qua se cambia il valore in una lista non è detto questo non può influenzare lo stesso valore se è presente in un'altra lista perché non sto di nuovo modificando il valore ma sto modificando il riferimento a quel valore quindi in questo caso usando list ho creato due strutture dati indipendenti che possono evolvere indipendentemente e quando faccio quest'ultima print vedrò che effettivamente i voti sono 28 per l'uno ma 18 per l'altro quindi sono due valori diversi se vogliamo ci sono solo due modi di creare una lista nuova aperta quadra e funzione list aperta quadra ci mettono i numeri dentro come ho fatto qua ho creato una lista oppure ho creato una lista usando la funzione list sono gli unici due modi vabbè principali in tutti gli altri casi sto riusando liste che ci sono sto facendo riferimento a una lista che esiste già in questo caso non ho una list non ho una parentesi quadra e quindi questo uguale semplicemente copia il riferimento non copia il contenuto attenzione però non portare avanti troppo avanti questa cosa che ho detto perché se voi scrivete voti c uguale fammi tornare indietro col cursore così non esegue subito vi ho detto ma il modo per costruire una lista è usare la funzione list oppure usare parente di quadra allora qualcuno potrebbe aver ascoltato la frase troppo in fretta e dire vabbè allora voti c uguale votiamo però ci metto la parentesi quadra così mi crea una lista nuova ovviamente questo non è ciò che vorremmo cosa farebbe questa istruzione cosa fa questa istruzione perché non è vietata crea una lista nuova che contiene un elemento questo elemento è il riferimento alla lista eccola qua voti c è una lista che contiene un elemento solo questo elemento è una freccia che punta alla lista impareremo a giocare con queste cose qua liste che contengono liste al loro interno non è un problema ma non era quello che volevamo in questo momento ok se lo vediamo in forma compatta si vede meglio che una lista crea un'altra lista con gli stessi valori in questo caso ho creato una lista il cui contenuto non è un valore direttamente ma è una lista che a sua volta contiene valori quindi per stampare il 28 dovrei scrivere voti c di 0 e poi ancora di 0 un doppio indice ma questo lo vediamo dopo quando faremo le liste di liste dette anche tabelle come chiamate nel titolo quindi dobbiamo sempre avere chiaro in mente adesso col python tutor te lo sto facendo vedere ma anche quando scriviamo il codice avere bene in mente quali sono le strutture dati diverse e quali invece sono qui sono chiamati degli alias cioè sinonimi nome diverso per la stessa cosa degli alias per le liste esistenti non abbiamo fatto tutto questo pandemonio parlando di stringhe perché la stringa era immutabile e quindi che tu ne avessi una copia identica o che avessi un riferimento alla stessa tanto non la potevi cambiare e non avevi nessun modo per accorgerti della differenza tra copia e invece qui potendola modificare il problema è che modifichi una e per sbaglio o inadvertitamente rischi di modificare anche un'altra lista tra l'altro i casi particolari questo qua lo togliamo questo vtc dicevo è possibile creare delle liste con le parentesi quadro oppure con la funzione list è anche possibile creare le liste vuote no? io ho creato una lista con quattro elementi ma se io volessi potrei creare una lista vtc lui se poi ne è scritto allora per ora non ha ancora nessun voto una lista vuota la ottengo con aperta quadra e chiusa quadra senza niente in mezzo senza nessun valore in mezzo un po' come la stringa vuota quanti elementi contiene qual è la lunghezza di questo? zero quali sono gli indici validi? nessuno non è possibile indicizzare una lista vuota posso anche scriverlo se non sbaglio con il nuovo list da parentesi tonde mi fa la stessa cosa forse un po' più più esplici un pochino più visibile ma si usa molto spesso crea una lista vuota poi ci aggiungerò gli elementi dentro un po' per volta ovviamente anche qua l'indicizzazione continuiamo a parlare di cose semplici che sappiamo già si può anche usare l'indice negativo quindi col meno uno che corrisponde all'ultimo elemento e così via a ritroso ma questo non ci porta nulla di più di quanto già conoscevamo ecco veniamo invece alle operazioni che posso fare con le liste perché finché creare una lista costante e poi stamparla non mi diverto sappiamo abbiamo visto che posso modificare un singolo elemento ma a parte questo posso farle crescere aggiungere elementi cancellare elementi ricercare eccetera eccetera allora vediamo quali sono i metodi principali supportati dalle liste il metodo più utile sicuramente è il metodo append che data una lista aggiunge un nuovo elemento a quella lista stessa perché i voti non è che li do tutti subito inizio con zero voti poi man mano riceverò nuovi voti allora avrò una lista che in questo caso si chiama France adesso la facciamo con i nostri voti che inizialmente è vuota e quindi è rappresentata così l'oggetto lista ha un metodo che si chiama append che riceve un valore un singolo valore allora questo è un metodo che modifica il valore della lista che sta a sinistra non ritorna non restituisce una nuova lista il metodo append ma modifica direttamente questa lista sulla quale abbiamo chiamato il metodo è diverso quando facevamo nome punto upper per convertire un nome in maiuscolo restituiva una nuova stringa convertita in maiuscolo ma la stringa di partenza non veniva toccata qui invece non restituisce nulla non ha un valore di ritorno il metodo append ma modifica direttamente la mia lista di partenza e ogni volta che chiamo append aggiunge in fondo il valore che gli ho specificato come parametro della funzione append ogni volta aggiunge in fondo e il fatto di aggiungere di fatto aumenta di 1 la lunghezza della lista se la lista allunga 0 dopo il primo append sarà lunga 1 dopo il secondo append sarà lunga 2 e così via il length della lista aumenta ogni volta che ci appendo qualcosa quindi se volessimo fare un piccolo programmino in cui posso scrivere i miei voti lista voti lo chiamiamo così potrei creare la mia lista di voti come lista inizialmente vuota e poi man mano che l'utente me lo chiede voto uguale inserisci input int di input inserisci un voto 0 per finire e quindi avrò il mio ciclo while voto diverso da 0 questo l'abbiamo già fatto 100 volte non un ciclo in cui leggo dei dati ma cosa faccio dentro il ciclo questa volta beh aggiungo all'elenco di voti il singolo voto e poi ovviamente dovrò fare la input per l'iterazione successiva a questo punto alla fine di questo programma avrò una lista che contiene la sequenza di tutti i voti che ho costruito un passo per volta un gradino per volta poi qua ci posso fare la media volendo posso fare il massimo posso fare posso dire che la tua media è cosa faccio la somma diviso il numero quindi sum di voti diviso l'en di voti non ce ne sa non l'abbiamo ancora vista ma credo che sia intuitivo che cosa fa come max e min fa la somma dei valori presenti l'en è la lunghezza della stringa programmini che calcolassero la media dei voti li abbiamo già fatti anche la somma qual è la differenza che la somma la dovevamo fare dentro il ciclo man mano che leggevamo i dati perché l'iterazione successiva quel dato veniva perso perché nella variabile voto veniva letto il valore successivo e quello precedente veniva perso e quindi per calcolarmi la somma dovevo avere un'altra variabile che mentre leggo calcolo già qua invece è molto più comodo qui leggo quindi questa parte di codice ha come obiettivo quella di costruire una lista la parte di codice successiva ha quello di obiettivo di analizzare la lista e calcolare dei valori dalla riga 10 in poi io so che tutti i miei dati sono qua dentro dentro questa lista voti non mi interessa più come ho fatto leggerli quando li leggo se devo fare dei controlli sulla lettura dei dati eccetera questa parte di codice può essere anche complicata ma a me non interessa più io posso semplicemente inserire dei voti 21 22 23 27 quando esisco 0 lui mi dirà che i voti che ho inserito sono finiti in una lista di tre elementi voti di 0 sono la 21 voti di 1 23 voti di 2 27 la media viene questo numero qua quindi è abbastanza frequente avere questo schema per costruire liste ci sono casi rari in cui so già esattamente all'inizio quali sono i valori che sono contenuti dentro una lista ma nella maggior parte dei casi questi valori li scopro strada facendo allora partirò con una lista vuota e poi man mano che scopro un nuovo valore col metodo append lo aggiungo in fondo e quindi la lista cresce non ho bisogno di non ho un limite superiore alla dimensione della lista non devo neanche dichiararla prima come succede invece in altri linguaggi di programmazione la faccio crescere man mano che mi serve questo metodo append come dice il nome appende in fondo ma se io invece avessi la necessità di inserire un nuovo valore in un'altra posizione non per ultimo ma per primo per secondo per quarto appende non va bene ma posso usare un altro metodo che si chiama insert insert anche lui aggiunge un nuovo elemento quindi fa crescere la lista la lista prima aveva qua quattro elementi adesso ne avrà cinque e il nuovo elemento che ho aggiunto in questo caso è Cindy la differenza che è un parametro in più in cui specifico la posizione in cui dovrà essere inserito il nuovo elemento l'indice nel quale il nuovo elemento che sto inserendo dovrà andare a finire e se c'era già qualcosa lì dentro beh ciò che c'era lì dentro viene spostato in avanti di una posizione io sto inserendo Cindy alla posizione di indice 1 ok nella posizione di indice 1 prima c'era Emily ma non lo sto perdendo non sto scrivendo friends di 1 uguale Cindy che va a sovrascrivere Emily sto dicendo friends.insert aggiungi un nuovo elemento nella posizione 1 cioè Cindy e gli altri elementi fanno un passo avanti quindi Emily dalla posizione 1 è finita la posizione 2 Bob che era nella posizione 3 è finita nella posizione 4 Bob che era nella posizione 2 è finita nella posizione 3 Cari che era nella posizione 3 è finita nella posizione 4 la lunghezza della lista è passata da 4 elementi a 5 elementi un caso particolare è quello di insert 0 se mettessi insert 0 ovviamente inserisce il dato all'inizio come primo elemento e quindi ciò che otterrei alla fine è una lista che contiene gli elementi in ordine inverso rispetto all'inserimento se aggiungo in fondo trovo una lista in cui gli elementi sono me li troverò nella lista nello stesso ordine con cui sono stati inseriti se invece inserisco davanti ogni volta me li troverò nell'ordine rovesciato l'ordine inverso quindi queste sono operazioni le due più semplici che però cominciamo già a vedere che non agiscono sui valori non costruiscono nuove stringhe non costruiscono nuove liste ma prendono una lista esistente e la modificano è sempre la stessa lista ho dei metodi per mutarla cambiarne il contenuto non solo cambiare il contenuto di un elemento quello lo sapevamo già fare basta prendere frenzy di 2 uguale pippo e hai cambiato quell'elemento ma modificano proprio la struttura della lista i suoi elementi l'ordine con cui sono gli elementi sono elencati gli elementi e così via altri operatori predefiniti che lavorano sulla lista nel suo complesso questo di nuovo è un amico lo conosciamo già in l'in lo usavamo sulle stringhe ci permetteva di capire se una stringa più corta era presente in una stringa più lunga ecco funziona anche sulle liste e si chiede se un determinato elemento sindi è presente tra gli elementi della lista c'è o non c'è allora che cosa fa l'operatore in va a vedere tutta la lista dal primo elemento fino all'ultimo e confronta uno a uno questi elementi se ce n'è almeno uno perché potrebbe esserci più di uno potrebbe esserci dei doppioni se ce n'è almeno uno che è uguale a sindi in questo caso restituisce l'operatore in restituisce un valore vero in questo caso dentro un if il vero fa eseguire questa situazione altrimenti l'operatore in restituisce il valore falso se dentro una if non eseguirà il corpo della if c'è o non c'è è una risposta logica booleana ma se voglio invece sapere dov'è anche qua posso usare l'operatore index che già avevamo conosciuto sulle stringhe che dato un elemento mi restituisce un valore intero pari all'indice della posizione nella lista in cui si trova quell'elemento se ce ne fosse più di uno mi restituisce il primo se non ce n'è nessuno genera un errore quindi io posso dire a un certo punto che il nostro amico che è la il tuo primo 30 è qual è? è il primo secondo il terzo esame? beh lo posso prendere posso cercare dentro voti punto index di 30 poi ci metto un più uno per non stampare l'esame zero ma chiamerò l'esame uno esame due esame tre per cui se il nostro amico ha peso dei 30 quindi abbiamo dato un 21 un 22 un 30 un 28 un altro 21 un altro 30 e un 24 che ne so zero allora mi dirà che il mio primo 30 è l'esame numero 3 infatti 21 22 30 mi ha trovato la funzione il metodo index mi ha trovato la posizione cioè l'indice del primo elemento della lista voti il cui valore fosse uguale al 30 che gli ho passato in questo caso ha istituito l'indice 2 poi io per stamparlo in modo umanamente comprensibile ci ho aggiunto 1 il 30 successivo non l'ha trovato non l'ha neanche cercato perché si è fermato al primo elemento che ha trovato se io provassi a fare la stessa cosa però con un studente che non ha mai preso 30 allora attenzione che il programma mi dà un errore value erro 30 non è nella lista quindi posso usare la funzione index solo se sono sicuro che l'elemento è presente quindi tipicamente se mi serve ci metterò davanti un if se hai preso almeno un 30 allora andiamo a cercare dov'è altrimenti non hai dei 30 ok quindi la funzione index o mi dà un valore effettivo di una posizione in cui trovo quel valore oppure mi blocca il programma con un valore e in ogni caso mi trova solamente il primo ok allora abbiamo visto come aggiungere elementi appendo in fondo insert all'inizio o a metà come cercare elementi per valore conoscendone conoscendone l'indice è facile vuoti di 3 mi dà il quarto conoscendone il valore posso usare index ma prima devo verificare che ci sia aggiungo ricerco cancello l'operazione per cancellare un valore da una lista si chiama pop la funzione pop che cosa fa distrugge l'elemento specificato e poi compatta la lista l'elemento che ho appena distrutto se mi serve me lo restituisce come valore di ritorno quindi pop di 1 la lista di amici pop di 1 quindi vuol dire che lui identifica prima il secondo elemento quello di indice 1 che era Cindy poverino l'abbiamo appena giunta la vogliamo cancellare allora visivamente la posizione 1 che conteneva Cindy viene cancellata e le posizioni successive vengono anticipate di uno scatto in modo da ovviamente una lista deve sempre contenere tutti i valori contigui non posso avere una lista con dei buchi in mezzo quindi se ho creato un buco devo poi ricompattare gli altri elementi in modo da riempire quel buco e alla fine la lista anziché 6 elementi ne avrà solamente più 5 e al posto di Cindy che ho cancellato è andata a finire Emily al posto di Emily è andato a finire Bob al posto di Bob è andato a finire carri eccetera eccetera questo lo fa tutto in automatico io devo solo dirgli qual è la posizione dell'elemento che voglio cancellare e il valore di questo elemento non c'è scritto qua ma viene restituito come valore di ritorno del metodo pop stesso quindi mi dice anche se volessi salvarlo potrei fare diamolo qua ad esempio se io scrivessi voti b quel 18 non mi piaceva pop di 0 vedete che a voti b è sparito torno indietro prima di questo pop questa era la lista adesso applico voti b uguale a pop di 0 e questo elemento il primo elemento sparisce e gli altri si spostano in là di una posizione il voto che ho tolto è il valore di ritorno della funzione quindi se io voglio la funzione pop la chiamo così mi distruggi l'elemento ma se voglio anche salvarmi il valore dell'elemento che ho tolto questo metodo fa due cose modifica la lista e mi restituisce il valore che ho cancellato è per ora il primo metodo che troviamo che fa questo doppio lavoro ok quindi se voglio usarlo me lo salvo se no semplicemente uso il fatto che pop ha degli effetti sulla lista che viene modificata altre operazioni sulle liste questa è quella fondamentale poi le metteremo insieme per fare degli esercizi esercizi utili concatenazione la concatenazione di liste funziona come la concatenazione di stringhe cioè se ho due liste separate posso unirle in un'unica lista che contenga la sequenza di vari elementi usando l'operatore più oppure oppure usando il metodo extend allora qui ci sono due punti in cui fare attenzione metodo vediamo che ho due liste pari dispari e voglio creare una lista concatenata che contenga tutti i numeri pari e poi tutti i numeri dispari allora posso creare questa lista facendo pari più dispari oppure usare il metodo extend sulla prima lista passando come parametro il nome della seconda lista allora la prima osservazione che questa qua che è nell'angolino non confondiamo purtroppo con dei nomi simili append con extend append aggiunge un elemento a una lista extend aggiunge tutti gli elementi di un'altra lista alla lista di partenza ok quando chiamo extend l'argomento di extend deve essere una lista a sua volta e tutti gli elementi in questo caso della lista di dispari vengono accodati appesi uno a uno un po' come se facessimo appendere uno a uno ma tutto in un unico blocco quindi devo aggiungere un elemento append devo aggiungere una lista di elementi extend quindi questa è la prima osservazione la seconda osservazione è che cosa succede alla lista pari nei due casi per cui il motivo per cui ci sono due modi diversi di farlo è perché in realtà il risultato è diverso proviamo a vederlo con il nostro python tutor ok abbiamo pari uguale 2 4 6 lo sto scrivendo 4 6 8 e dispari uguale 1 3 5 7 leggiamoci anche 9 dai poverino e fin qua nulla di particolare ho creato due liste le sto vedendo in visualizzazione compatta ma tanto non condivido nessun valore quindi se anche la vedessi così vedrete che sono tutti valori separati l'uno dall'altro adesso cosa succede se uso l'operatore extend pari.extend dispari l'operatore extend è un metodo di pari quindi un metodo che si applica all'oggetto pari alla lista pari e quindi modifica la lista pari stessa la lista pari alla fine non si chiama più tanto pari perché contiene adesso sia i numeri pari che i numeri dispari quindi l'extend va a modificare il contenuto della lista su cui viene chiamato il metodo extend aggiungendovi gli elementi che erano nell'altra lista l'altra lista non viene modificata viene semplicemente passata come argomento e vengono usati i suoi valori ricordiamoci che devo mettere una lista se ci mettessi solamente un elemento mi darebbe un errore un errore strano dice l'oggetto non è iterabile perché 3 è un valore singolo non è un elenco una sequenza di oggetti e questa era una possibilità l'altra possibilità è di calcolare pari più dispari cioè usare l'operatore di concatenazione scritto così pari più dispari non fa nulla perché lui effettivamente costruisce la lista concatenata ma poi non la salva da nessuna parte non la memorizza da nessuna parte e quindi me la perdo allora devo salvare da qualche parte magari di nuovo dentro pari e beh adesso parte l'ordine delle frecce troviamo lo stesso identico risultato di prima cioè io ho preso la lista pari l'ho concatenata con la lista dispari e il risultato concatenato l'ho di nuovo salvato nella lista pari però non è non è esattamente come prima perché in questo caso adesso lo vediamo meglio la lista pari non è la stessa di prima abbiamo creato una lista nuova e l'abbiamo sostituita a quella precedente lo vediamo se per sicurezza io mi faccio una copia di pari allora togliamo mettiamo questo commento facciamoci una copia di pari e una copia di dispari no? abbiamo imparato prima come fare gli alias facciamo questi due alias così quelli lì si ricordano qual'era la lista vera e propria se io uso l'extend sto modificando davvero questa lista e quindi sia la variabile pari sia tutti i suoi alias vedranno questa modifica perché abbiamo modificato effettivamente quella lista se uso la seconda forma con la concatenazione vale la regola dell'uguale di come funziona l'assegnazione quindi vado a vedere il ramo destro dell'uguale ho una concatenazione di che cosa? di due liste allora le concateno dopo che ce l'ho questa lista concatenata che adesso è disegnata lì sotto da qualche parte la devo agganciare dove? una variabile che si chiama pari e quindi sto modificando è questo che me lo fa capire questo uguale qui sto modificando il valore della variabile pari quindi vuol dire che la variabile pari punterà adesso a una lista diversa da prima e infatti la copia che abbiamo creato è separata è rimasta uguale perché nessuno l'ha toccata ma la variabile pari non è più un alias ho rotto l'alias ho rotto l'identità facendo questa operazione allora la complicazione che dobbiamo avere è facciamo sempre attenzione quando scriviamo delle operazioni con le liste e soprattutto quando lo faremo dentro le funzioni alcune operazioni modificano la lista sul posto cioè internamente altre operazioni invece costruiscono una nuova lista quindi nel caso di alias questi si separano e poi ognuno per la sua strada ognuno ha la sua vita ci sono dei casi in cui ci serve di più l'uno ci serve dei casi in cui ci serve di più l'altro quindi va bene che ci siano entrambi dobbiamo solo noi ricordarci in quale caso siamo questo uguale qui è indicatore sto modificando il valore di una variabile quindi se per caso questa variabile avesse degli alias questi continueranno a avere il valore vecchio e io variabile prenderò il valore nuovo quindi facciamo attenzione per questo che sulle liste ci sono molti metodi insert, append, pop eccetera e non c'è mai l'uguale perché non modifico mai la variabile che punta alla lista bensì modifico i contenuti della lista gioco con i quadratini gialli li sposto li aggiungo li sposto ma la variabile rimane sempre la stessa e punta sempre alla stessa zona di memoria vabbè poi ci sono altre operazioni più semplici tipo la moltiplicazione ma questo la useremo quasi mai credo in cui si replicano più volte i stessi valori qui ripeto cose che già possiamo traslare facilmente rispetto alle stringhe oppure l'uguaglianza posso confrontare se due liste sono uguali o diverse con gli operatori di uguaglianza o di diversità questi operatori vanno a confrontare che le due liste abbiano la stessa lunghezza contengono gli stessi elementi nelle stesse posizioni quindi ad esempio queste due contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso quindi sono considerate diverse abbiamo già visto incidentalmente che posso usare la funzione somma per farmi calcolare la somma di tutti i numeri di una lista che contiene dei numeri ovviamente non provate a usarla se la lista contiene delle stringhe così come il massimo e il minimo sono funzioni che applicate a liste mi restituiscono appunto il valore più grande o il valore più piccolo sono cose che già sapevamo fare sia la somma che il massimo e il minimo facendoci un piccolo ciclo for però visto che a questo punto i dati li abbiamo ordinati in una lista ci sono delle funzioni che già fanno questo calcolo la somma si può fare solamente con numeri il massimo e il minimo si possono fare con numeri o stringhe purché la stringa contenga tutti i numeri o tutte stringhe se è una lista mista con un po' di numeri e un po' di stringhe non posso calcolare il massimo perché lui non può confrontare un numero con una stringa questo è un motivo in più per quello che ho detto in apertura di lezione anche se le stringhe possono avere i valori misti ci conviene non farlo ok l'ordinamento invece è un pochino più complicato da vedere quindi direi che è un momento per fermarci adesso fare l'intervallo e poi vedere qualche applicazione pratica di queste cose grazie a tutti